Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Animal Crossing Come promesso ho fatto il video Sto facendo il video di Animal Crossing Oggi che è domenica Comunque volevo farvi vedere diverse cose Come vedete ho cambiato anche la strada E vabbè l'acconciatura è tutto Comunque ragazzi vorrei che questa serie vi piaccia un sacco Perché a me Animal Crossing mi piace davvero un sacco E quindi comunque sono qui a Molo Appunto per questo per farvi vedere insomma Una modalità cioè che si può giocare online Mentre stavo preparando insomma tutte queste cose E' passato un treno Un treno vicino alla stazione Perché si si può andare in città diverse Però insomma qua se noi adesso andiamo su Se noi adesso andiamo alla stazione Non penso ci siano persone Cioè miei amici che hanno i cancelli aperti Cioè per far visitare le persone Questo sinceramente è un caso davvero raro In una maniera assurda Cercherò domenica prossima di Dire a un mio amico Insomma di Oh cos'è Comunque voglio un attimo Attivare la modalità online qua Così giusto per vedere se ci sono I miei migliori amici Perché ci sono Nelle modalità dove ci sono i miei migliori amici Insomma tu puoi già stare così Insomma Insomma cavolo Ah non posso ragazzi Quindi se Ci vediamo fra poco Lo faccio Aspettate eh Ci vediamo fra poco Ecco qua ragazzi Perfetto Tra i miei migliori amici Questo probabilmente Non c'è nessuno Quindi insomma niente Potremmo vedere se ci sono Tra i miei amici Qualcuno Olline Andiamoci a qualcuno online Andiamo a vedere se possiamo andare a visitare Se no appunto andiamo in barca Andiamoci a sbarcare Cos'è si deve fare? Il torino è a visitare un'altra città Lontana In quella città L'internet sì Prima di tutto naturalmente Che salva Ragazzi Perché se poi succede qualcosa Crash Non salva niente Come se noi non avessimo fatto niente In questa nostra città E quindi deve saldare per forza Ok non c'è nessuno che ospita ragazzi Ok quindi naturalmente noi andiamo là Non so se fa Cioè guardate ragazzi aspettate un attimo Ci vediamo fra poco Ecco qua sono arrivata al molo E andiamo qua Sembra che tu non sai qua che pesci pigliare Andate al ritorno Fanno mille stelline Vuoi andare sì o no? Sì D'accordo sirenetta Lascia fare a me Di un po' sirenetta Con cui trascorrerai il soggiorno sull'isola Con altri viaggiatori Benone Siamo pronti per salpare Ma prima devi dirmi Vuoi incontrare solo persone che vivono nel tuo angolo di mondo? Vuoi partire per un giro planetario Ed esplorare acque internazionali Allora ragazzi Io in inglese non lo so Però potremmo praticamente Incontrarci con uno spagnolo Con uno tedesco Con uno cinese E preferisco sinceramente Restare nel mio paese Cioè in Italia Ecco fatto sirenetta Ora aspetta mentre preparo In questo glorioso galeone Ragazzi staremo andando verso il mare No vabbè Non puoi portare le tue cose sull'isola Quindi diciamo che le tiro io per te Non ti preoccupare sirenetta Troverai tutte le tue cose al suo ritorno Allora pronta per salpare? Certo Andiamo Stiamo andando online Comunque ci sarà anche più tempo Finché non troverà qualcuno Insomma che sta giocando Sta andando sull'isola Insomma su qualsiasi isola Insomma non Non trovo Ah tra poco saremo arrivati Proprio così Sì vabbè Ci vediamo fra poco ragazzi Mentre trova ci mette cento anni Ecco ragazzi Siamo arrivati Però non c'è nessuno Quindi vorrei aspettare Vorrei aspettare Insomma Che qualcuno arrivi Quindi ci vediamo fra poco Cioè ragazzi Ho appena detto ci vediamo fra poco Mi ha detto tipo qualcuno È arrivato sull'isola Salutiamola subito Faov si chiama È una ragazzina Perfetto Oh qualcuno è arrivato sull'isola Proprio così ragazzi Stanno arrivando a Raffica Speriamo che non troviamo qualcuno Che crascia davvero tanto Perché sinceramente Sull'isola Si trovano persone Che crasciano da impazzire Qua in Italia Non c'è proprio Una wifi Insomma Una linea molto perfetta Che mi è caduta la pennetta E quindi aiuto Non posso salutare la gente Chi è? Ah è un'altra ragazzina Perfetto Comunque ragazzi Non per vantarmi Ma io sono la più bella qua Secondo me Come è vestita lei Davvero carina Che mi si è? Oh mio dio Che mi si è? Macchiato Il petro Proprio facciamo Tipo che Però alla fine Non mi importa niente Perché mi si è? Poi dice Mi si è bugato il gioco Caduto a te Uh Un po' Ahiaiai Si si è rotto Madonna Che schifo Cioè A me ancora non mi cade Una santa volta Ragazzi Sono davvero felice Tutto questo Ragazzi non annulla Poi tipo 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 Vabbè Sì abbiamo capito Ma ragazzi non so Madonna 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 Proprio di dentro Madonna Cioè qua ragazzi Facciamo Tipo argomenti di merda Una cosa del genere Non è graffiato Non è graffiato Cioè Ok A me non me ne può fregare Non è graffiato E' graffiato Sì Ahiaiai Non è graffiato Ma è graffiato E' graffiato Sì, ma si può aggiustare. Oh, che faccio. Ma che facciamo? Vabbè, ma stavo dicendo salute. Cos'è? Guarda ragazzi, metto bene la telecamera, neanche me l'ho accorta. Perché scrivendo non me ne posso neanche accorgere, ragazzi. Cioè, praticamente scusate un sacco. Però quando scrivo non mi accorgo. Cioè, non devo spostimare così. Se no così, ragazzi, perché no? Cioè, se ci vedete bene voi così... Così ci vedete bene. Cioè, me lo dovete dire se ci vedete bene. Perché continua così. Perché se no poi è scomodo per me. Anche se si vede la mano. Comunque, ci sono diversi minigiochi qua online su questa cosa. Quindi, ragazzi, vorrei farvi vedere alcuni. Se adesso questo mi dice di fare qualcosa, vi facciamo un socchietto. Di fare un tour, perché questo è un tour, no? No, mi ha cresciato di merda, cioè. Quello che sta avvenendo, ragazzi, ha cresciato. Non vi preoccupate che adesso ci riandavo subito. Ok, ragazzi. Non trovo nulla. Quindi, io penserei di chiudere il video qui. Il prossimo video, naturalmente, sarà domenica prossima. Che cercherò di fare un video in compagnia di qualcuno. Cioè, di andare in giro ad una città di qualcuno. Di una mia amica. E se ho cambiato l'orario. Cioè, adesso sono alle 15.48. Comunque, ragazzi, volevo dirvi che il video, cioè la miniserie al posto di Minecraft, uscirà mercoledì. Questa è l'altra mercoledì, sì. Perché farò un gioco che, naturalmente, non vederò, però, insomma, in compagnia. Quel gioco è, appunto, in compagnia. Non si può fare da soli. Cioè, si potrebbe fare da soli, però è più bello in compagnia. Quindi, insomma, lo faccio in compagnia e uscirà mercoledì. Quindi, non serve, insomma, che l'aspettate martedì. Perché non esce il martedì. Quindi, io concludo qui l'episodio. Mettete un mi piace, appunto, per far bene, insomma. Mettete un mi piace, appunto, perché siamo andati online. Perché io, se no, ho pensato un'altra cosa. Però, insomma, ho pensato così. Vabbè, su, andiamo online. Quindi, mettete un mi piace perché siamo andati online. Se siamo andati sull'isola. Quindi, mettete un mi piace, commentate, condividete questo video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale. Ciao!